Il Milan nella realtà sta ancora a scegliere un nuovo allenatore, noi questa scelta l'abbiamo già fatta. Nuovo allenatore, nuova squadra con una rivoluzione sia in entrata che in uscita e già giocata la stagione 24-25. Amici appassionati di calcio, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova rebuild, qui su Football Manager 2024. A differenza di quanto fatto 5 mesi fa con il May United, con Napoli e con la Roma, non sarà più naturalmente una rebuild dedicata alla stagione 23-24, non sfrutterò più la realtà alternativa, terza modalità di gioco presente all'interno di FM, ma pensiamo, come ho detto in inizio video, la stagione 24-25, quindi la prossima stagione. E come per i recenti experiment portati all'interno del canale, sfrutta ancora una volta il database dei risultati reali. Questa tipologia di database, insieme ad altri materiali dedicati a Football Manager, li potete trovare come sempre sul mio canale Discord e per maggiore info, link in descrizione. Da adesso in avanti questo format cambierà, perché non solo penseremo alla stagione 24-25, ma a differenza di altre rebuild portate precedentemente, questo nuovo format porta diverse novità. L'aggiunta di una nuova figura, quella di Scoco97, che all'interno di questo format ricoprirà, rivestirà il ruolo di direttore sportivo. A lui tutte le responsabilità extracampo, rinnovi, acquisti, cessioni e non solo. Perché in tutte le nostre carriere è spesso capitato che un calciatore bussasse alla porta il proprio allenatore per chiedere un rinnovo o per chiedere eventualmente un trasferimento. Di solito questa richiesta viene accolta di più da un direttore sportivo piuttosto che da un allenatore, quindi piena responsabilità extracampo al nostro Scoco97. Altra modifica al format è il concetto di roleplay. Sarà una figura reale a prendere in gestione, in questo caso il Milan, e questa figura, questo allenatore, lo scegliete voi. Perché questo format l'abbiamo recentemente portato sul canale Viola, dove vi ricordo come sempre, live tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. La rebuild del Milan l'abbiamo iniziata circa due settimane fa. E come adesso, come in queste ultime ore, tanti i nomi dei possibili nuovi allenatori per il Milan. Però in quel periodo erano quattro i nomi caldi, Lopeteghi, Conte, Van Bommel e Tuchel. A sondaggio quindi questi quattro nomi a vincere, a sorpresa, Mark Van Bommel. E quindi sarà proprio l'ex centrocampista rosso-nero a prendere in gestione la prima squadra per la stagione 2024-2025. Se in passato avevamo quindi piena libertà dal punto di vista tattico, in questa nuova rebuild si segue il sistema di gioco dell'allenatore protagonista. In questo caso, proprio di Mark Van Bommel. E sinceramente, rispetto agli altri nomi, quelli di Lopeteghi, Conte e Tuchel, non è stato proprio facilissimo reperire informazioni su Mark Van Bommel. Ringrazio Scoco, ringrazio la chat per il supporto. Alla fine abbiamo comunque trovato un sito di riferimento che ci ha dato comunque delle informazioni valide per rispettare a pieno il suo sistema di gioco. È rimasto però un aspetto già presente nelle precedenti ricostruzioni portate all'interno del canale, ovvero quella di una simulazione gestita completamente da Football Manager. Qui siamo al 27 maggio 2024 e salvo clamorosi colpi di scena, Pioli non è più l'allenatore del Milan. Quindi in questo momento il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore. E quindi vediamo quali sono state le scelte di Football Manager, mercato, allenatore e soprattutto risultati della stagione 2024-2025. Mercato in uscita sorprendentemente povero, ma sorprende ancora di più la cessione in prestito con diritto di riscatto di Samuel Ciuquez alla Roma. Giro, come ben sappiamo, tra poche settimane lascerà definitivamente l'Italia, il Milan e andrà negli Stati Uniti a giocare per il Los Angeles FC. Quindi questo è stato esperimento già definito e il Milan quindi a questo punto si ritrova costretto a dover agire nel mercato in entrata, soprattutto alla ricerca della figura che va poi a sostituire l'attaccante francese. Il Milan ha guadagnato circa 7 milioni, spesi addirittura 75. Primo colpo, un francese, ma che secondo me non va a sostituire Giroud, Giorginio Rutter. Non lo va chiaramente a sostituire perché sì, conoscenza ruolo, attaccante, però ha tutto tranne che delle caratteristiche adatte per essere poi il sostituto di Giroud. È più una seconda punta, una sorta di falso neve, un calciatore che ti punta, ma che è anche molto bravo poi nel passaggio finale, rifinitura, nel andare a servire un assist o un passaggio chiave. Non ha però assolutamente quelle caratteristiche peculiari da vero centravanti, perché manca né la finizzazione e né la freddezza. Investimento però molto importante del Milan perché questo calciatore è stato pagato più di 50 milioni, quindi gran parte del budget speso in entrata, tutti per il talento francese. Va a rispettare un po' la realtà a questo mercato Milan, la realtà di questi ultimi anni, soprattutto pensando all'ultima stagione. Tanti giovani talenti. Un Milan sempre che cerca di prendere dei giovanissimi e non dei calciatori over 30, si ripete portando un nuovo rinforzo in mezzo al campo, il talento portoghese Rafael Luiz. E sempre per rinforzare la panchina, e sempre parlando di giovani, Alvaro Sanz, nuovo rinforzo per il centrocampo rossonero. Dallo Zenit, un nuovo difensore centrale, il serbo Erakovic. Tanti soldi spesi, tante scommesse, ma chi è il nuovo allenatore del Milan? Qual è stata la scelta di Football Manager? Beh, signori, un clamoroso ritorno, quello di Carlo Ancelotti. 4-4-2 diamante stretta, questo è il sistema di gioco di Carlo Ancelotti, allenatore del Milan. Due punte, Okafor e Leao, le più utilizzate alle loro spalle. De Ketteler, che non è stato poi alla fine riscattato dall'Atalanta, ma torna in rosso-nero. Centrocampo, formato da due certezze, da due elementi che vediamo anche nel Milan reale, e rendersi in mediano un po' sorpresa, spicca la figura di Yassin Adli. Difesa 4, poi direi un grande classico, considerando anche il porta che è rimasto Mignan, Calabria, ciao, Tomori, e naturalmente Teo Hernandez. Quasi nulla da segnalare nel mercato in entrata, alla fine un Milan che tra il stato e inverno spende 87 milioni, ma è sorprendente ciò che è successo nel mercato invernale, quello in uscita, con la clamorosa cessione di Pulisic. È sorprendente anche la cifra guadagnata, perché non stiamo parlando di chissà quanti soldi, ma di circa 36 milioni. Ripensando la formazione vista poco fa, e guardando quello che è il numero delle presenze di Kettler presente all'interno di questa scheda, allora giustifico abbastanza, poi la scelta presa dal Milan di bocciare, in questo caso Christian Pulisic, proprio perché la figura del Tizolare è stata pienamente sostituita dal trequartista belga. Il Milan a gennaio si ritrova secondo in classifica, con meno tre punti di stacco dalla Roma, che occupa momentaneamente la prima posizione. In Champions League il Milan supera la fase di minicampionato, ma non tra le prime otto, costretta a giocare lo spareggio contro l'Atletico Madrid. In Coppa Italia, invece, sarà quarto di finale contro il Napoli, mentre invece c'è già una delusione per Carlo Ancelotti e i rossoneri, perché perdono la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Leao sembra trovarsi bene nella nuova posizione da centravanti. Mignan si dimostra sempre essere un fattore per il Milan, a sorpresa capocannoniere in Champions League per i rossoneri Lorenzo Colombo. Fine stagione cambia il volto della classifica, la Roma dal primo posto conclude il campionato al terzo, ma soprattutto il Milan di Carlo Ancelotti torna a vincere il campionato. Il suo ventesimo scudetto, con ancora leao decisivo, alla fine sono 14 gol stagionali per lui in Serie A, e ancora una volta Mignan si dimostra essere il migliore dell'intera squadra. Pochi punti di stacco dallo Juventus, solamente due, ma ciò che conta è il campionato vinto da Carlo Ancelotti. Meno brillante in Champions League, il Milan supera nello spareggio l'Atletico Madrid, ma viene fermato da un'altra squadra di Madrid, il Real, la vecchia squadra di Carlo Ancelotti, nel doppio confronto dei quarti di finale. Successo invece con la Roma, basta 1-0 nella finale per aggiudicarsi la Coppa Italia. Ancelotti quindi al Milan chiude la stagione con campionato e Coppa Italia vinta. Tanto criticato al sottoscritto, considerato folle come operazione, in entrata, ma alla fine ha giocato tante partite diverse, non quante le hao, ma stesso numero di gol, 18 per Ruter, e sinceramente davvero inaspettato, considerando poi la scheda che abbiamo visto soprattutto ad inizio stagione. Tocca adesso alla nostra rebuild, la ricostruzione del nostro direttore sportivo Scocco97, e i risultati che ho ottenuto sul campo interpretando Mark Van Bommel. È stata ragazzi un'esperienza particolarissima. Tramite Discord acquisizione dello schermo con il save, il mio save, passato a Scocco per permettere di fare appunto mercato in entrata e in uscita con più facilità, perché al posto di dirmi cosa dovevo fare, gestiva direttamente lui e questo l'ha fatto per tutta la sessione estiva di calcio mercato. Quando poi è iniziato il campionato, è iniziata la stagione, mi sono fatto passare il salvataggio naturalmente aggiornato col mercato in entrata e in uscita fatto, e lì allora pienamente attivi con il nostro Mark Van Bommel. 102 milioni i soldi guadagnati dalle cessioni, diversi quelli spesi in entrata. Guardiamo però prima il mercato in uscita. Una rebuild pensata a delle idee non troppo distanti da quelle della vera proprietà del Milan, quindi sì anche le preferenze di Scocco, ma sì anche a cercare di mantenere un certo realismo. Tante bocciature, tanti addi, ma nessuna cessione di un calciatore titolare, perché alla fine De Chetelare era impresso dall'Atalanta, Salem Eker era impresso dal Bologna, e per quanto riguarda la figura di Jovic e di Gabbia, beh, nessuno dei due era da considerarsi un elemento titolare. Mercato in entrata, mercato di occasioni, Scocco ha avuto modo di consultare anche la lista degli svincolati, e tra le occasioni, tra i parametri zero, spiccava la figura di Alberto Moreno, al Milan come sostituto di Teo Hernandez. Figura d'esperienza, non ha avuto problemi ad accettare un impiego d'elemento della rosa, portiamo sulla faccia sinistra, qualità con Alberto Moreno. Sempre a parametro zero, una delle operazioni secondo me più interessanti di questa rebuild, Rafa Silva. Voglio precisare una cosa molto importante prima di parlare di Rafa Silva e degli altri acquisti. Le scelte di mercato di Scocco 97, se in entrata che in uscita, non sono state minimamente influenzate dal sottoscritto. Così come non mi sono fatto influenzare da scelte tattiche, magari nel corso della partita, nel corso della stagione, non ho assolutamente influenzato l'operato in entrata e in uscita del nostro dettore sportivo, anche perché volevo appunto mettere bene in evidenza il fatto che ognuno di noi avesse proprio due compiti, due ruoli totalmente differenti. Interessantissimo Rafa Silva per utilità, per esperienza. È un calciatore che è vero, ha superato 30 anni, e già qui notiamo anche diverse qualità che o sono calate o stanno calando. Ma pensando a quello che può offrire sulla trequarti campo, a centrocampo e all'interno dell'area di rigore, è un elemento che secondo me non poteva non essere preso. Tempo di Tum, grossi di Tum, come si deve, perché il primo grande colpo è stato proprio nel reparto offensivo per andare a sostituire la figura di Olivier Giroud. E lo facciamo alla grande, con un elemento che in queste due ultime stagioni si è messo in mostra, prima nella Serie B inglese, e poi soprattutto con la maglia dello Sporting Lisbona in Portogallo, lo svedese Viktor Gjokeres. Sarà poi interessante anche analizzare il sistema di gioco portato da Mark Van Bommel, ma a prescindere un Gjokeres che là davanti può letteralmente fare quello che vuole. Attaccante completo non gli manca nulla se vogliamo trovargli un piccolo difetto alla gestione delle palle aeree, perché su massima elevazione e colpi di testa, valori un po' troppo bassi. Continua il mercato in entrata portando una valida alternativa a Davide Calabria, Pablo Maffeo dalla Spagna, giocatore italo-spagnolo, giocatore che esattamente come Calabria può offrire sicurezza su tutta la fascia destra. Naturalmente stiamo comunque commentando e parlando di schede all'interno di FM, non voglio poi fare confronti, paragoni appunto con la realtà, però analizzando la scheda di FM, sia quella di Calabria che quella di Maffeo sono molto simili, entrambi ottima conoscenza su tutto quello che è il lato destro del campo. Occasione della Roma, non lo si va a pagare molto, Edoardo Bove, uno dei pupilli del nostro direttore sportivo. Preso per rinforzare il centrocampo, preso come elemento che o dalla panchina o dal primo minuto potrà essere utilizzato, è chiaro però che non arriva come titolare fisso, ma come elemento che sicuramente avrà i suoi minuti, avrà le sue occasioni, e devo dire che comunque almeno per ora le ha sfruttate davvero bene. È un profilo seguito da molti italiane, quello di Alessandro Buongiorno, ma a differenza della realtà il Torino lo vende, chiedendo molto molto meno, perché se nella realtà si parla di minimo 30 milioni, beh, qui il Milan l'ha preso pagando esattamente la metà. 15 milioni, Alessandro Buongiorno, nuovo difensore centrale del Milan. Okafor è stato bocciato sia da me, Mark Van Bommel, che dal nostro direttore sportivo Scocco 97, e quindi di conseguenza c'era comunque ancora bisogno di intervenire nel reparto offensivo, nel ruolo del centravanti, perché sì, arriva Gjokers, ma sì, serve anche la riserva di Gjokers, e allora si sfrutta un'interessantissima clausola, che non so se in realtà sia ancora presente per questo calciatore, ma se dovesse esserlo, beh, aspettiamoci comunque di vederlo in un'altra squadra nella prossima stagione, e stiamo parlando proprio di un profilo cercato al Milan, soprattutto a gennaio, nella sessione invernale di calciomercato, Guirassi. Sfruttiamo la clausola, pagato quindi poco più di 18 milioni, Guirassi, nuovo attaccante del Milan, insieme a Vittor Gjokers. A differenza del centravanti svedese, anche qui stiamo parlando di una figura completa, che sa far bene tutto, però se Guirassi ci porta più certezze, e una migliore gestione delle palle aeree, a differenza di Gjokers, Guirassi non è certo quell'elemento capace di saltarti con estrema facilità. Non stiamo parlando di due dribblatori eccezionali, però sicuramente Guirassi, questo compito, questa mansione, la esegue con maggiore difficoltà. Per ora questo mercato vi sta convincendo, vi piacciono i colpi fatti? Beh, non è finita qui, perché chiudiamo, nei migliori dei modi, con il TUM leggendario, più di 60 milioni, l'operazione più costosa in assoluto di questa sessione di mercato, quella che porta un altro Turam in Italia, il fratello di Marcus, che è Fren Turam, nuovo centrocampista del Milan. Questa rebbed dura solamente un anno, ma nell'idea di Scoco, nella mia idea, noi vogliamo offrire una base solida per questa società. Quindi non abbiamo pensato solamente a calciatori che nell'immediato potessero portarci dei risultati, ma anche poi, pensando al futuro, una squadra che possa comunque offrire una certa continuità. Beh, che è Fren Turam, ha dalla sua il fatto che può portarti dei risultati sin da subito, ma è anche molto giovane, perché stiamo comunque parlando di un classe 2001. E quindi, ricapitolando, il mercato per ora estivo, porta 166 milioni spesi, 102 milioni guadagnati. E a differenza di Carlo Ancelotti, beh, Pulisic riveste un ruolo chiave all'interno di questo Milan, con un sistema di gioco che non va troppo a distanziarsi da quello che utilizza il Milan nella realtà. Le informazioni trovate riguardanti il sistema di gioco di Mark Van Bommel riguardano la sua esperienza a Pace Vendove. Nella realtà, allenatore dell'Anverp, moduli più utilizzati, 4x3-1, e poi come secondo modulo proprio il 4x3. E per il mercato che abbiamo fatto, abbiamo poi scelto definitivamente puntare sul 4x3, dal momento che per caratteristiche, secondo me, riusciamo in questo modo a risaltare meglio il centrocampo rosso-nero. Come molti allenatori nel calcio moderno, Mark Van Bommel non cerca una costruzione diretta, ma si riparte dal basso, si va in porta, si entra all'interno della rigore, con il pallone, con diversi passaggi, con il palleggio. Una costruzione che non porta, però ecco qui, a differenza di altre squadre moderne, pochi tocchi, dai e vai, ce ne sono veramente pochi, perché è uno stile di gioco, un sistema paziente, dove però non si escludono poi dei lanci diretti, a coinvolgere poi quelli che sono i trequartisti, e le qualità che si portano appunto sulla trequarti campo. Come quindi vediamo, abbiamo un'ampiezza abbastanza stretta, che va a favorire il possesso del pallone, il giropalla, e una squadra che comunque si rende più partecipe, nel lavoro appunto di sponda, e a supporto della manovra, si riparte per la terra della difesa, non si forza troppo la giocata nello spazio, ma non si vuole neanche forzare troppo lo scambio corto, il fraseggio orizzontale, ma se si può verticalizzare, diciamo che lo possiamo concedere, anche se tendenzialmente lo stile di passaggio è poco più corti. Come vi dicevo, a differenza di altre squadre moderne, non c'è un ritmo esasperato, ad essere altissimo, intenso, non quindi pochi tocchi, non dai e vai, ma un sistema, un ritmo di gioco paziente, dove si cerca di far girare palla, comunque prima pensando e ragionando un po' di più. Tutto questo lo vediamo anche poi riportato all'interno della tre quarti campo, dove abbiamo forzato il portare il pallone in aria. Questo anche per sfruttare poi quelle che sono le caratteristiche della nostra punta, in questo caso forzata nel ruolo di fulcro del gioco. Il non portare troppa frenesia, lo vediamo riportato anche nella fase in transizione, soprattutto in quella positiva, più che in quella negativa di quando si perde il possesso, cerca comunque il pressing immediato, l'andare a riconquistare il più velocemente possibile il possesso del pallone. Quando però si riconquista il possesso, non abbiamo impostato nessuna delle due cose, né contropiede né tenere la posizione. Concludiamo con la fase non in possesso, squadra comunque rivolta in avanti, che cerca di prendere alto all'avversario, con un pressing più spesso. Mi è piaciuto tanto creare questo modulo in live con voi, perché porta, secondo me, delle peculiarità davvero molto interessanti e anche particolari. Fulcro là davanti come unica figura all'interno dell'area di rigore, e i due terzini fluidificanti con compiti offensivi. Il ruolo con queste istruzioni diventa, secondo me, davvero fondamentale in entrambi le fasi, sia in quella di possesso e quella non in possesso. In fase in possesso, sfrutti al 100% quelle che sono poi le caratteristiche di Teo Hernandez, calciatore completo, uno dei migliori in circolazione. Ma anche in fase non in possesso, secondo me è molto interessante e molto utile sfruttare le qualità di Teo Hernandez, proprio perché con le sue qualità, molto più facile andare eventualmente ad anticipare quelle che possono essere le transizioni offensive degli avversari. E poi, naturalmente, ribaltare completamente il tutto e portare il Milan in una situazione dove può sfruttare anche una superiorità numerica. 31 dicembre 2024, praticamente metà campionato, un Milan. Parliamo del Milan in Champions League, il Milan europeo è letteralmente perfetto. Mancano due partite, un Milan che potenzialmente può chiudere la fase di mini campionato con sole vittorie. Abbastanza agevolati nel sorteggio perché alla fine sono poche le grandissime che andiamo ad affrontare. Beh, ma quelle grandissime che poi abbiamo affrontato abbiamo sempre vinto. E non sempre questo è avvenuto in casa perché una trasferta che ricorderemo sicuramente a lungo è quella contro il Manchester City, contro la squadra, campione d'Europa, che perde in casa contro il Milan per ben tre reti a uno. È stata veramente una partita gestita benissimo, siamo stati bravi anche a sfruttare nel migliore dei modi delle occasioni che non sempre sono state limpidissime, sono state nitide come dimostra anche l'XG ma dove comunque alla fine considerando il tutto abbiamo secondo me meritato di portarci a casa questo risultato. E poi è arrivata la vittoria 2-0 contro l'Arsen è arrivata anche la vittoria 3-1 contro il Barcellona e vediamo comunque tanti protagonisti da Guirassi a Ghiokeres a Leao insomma tanti calciatori sono riusciti a mettersi in mostra in questa Champions League. In questa rebuild cercheremo sì di rispettare quelli che sono gli obiettivi visti e mostrati all'interno di questa schermata ma soprattutto quelli imposti dal nostro ODS da Scocco 97 e cosa ha chiesto Scocco a differenza invece di quello che vediamo in questa schermata? Vincere il campionato arrivare almeno in finale di Coppa Italia e cercare di raggiungere almeno gli ottavi di finale di Champions League. Abbastanza sfortunati nel derby perso piccolo di distensione che aveva portato al gol di Turam un Inter che come il Milan non ha creato poi tantissimo ma un Milan sfrutturato nel finale perché ha concluso la partita addirittura in nove finiti i cambi l'infortunio di Turam e l'infortunio di Calabria hanno costretto il Rossonere addirittura a giocare nove contro undici però in qualche modo la fortuna ci sorride perché abbiamo una Serie A davvero particolare la Roma esattamente come nel primo Seve nella prima simulazione con Ancelotti al Milan è momentaneamente prima in classifica e poi abbiamo il Torino sorprendentemente addirittura al terzo posto ancora più sorprendente l'Inter che addirittura è solamente ottava i nuovi arrivati sono tutti comportati secondo me bene tranne per i due nuovi attaccanti perché tutte e due hanno fatto molta fatica a trovare gol a trovare fiducia a trovare soprattutto continuità tutte e due però in un ruolo inedito in un campionato che non conoscono diciamo che mi sembra tutto abbastanza normale però prima di giudicare aspettiamo di vedere come sono comportati i rossoneri nel girone di ritorno e quindi vediamo il mercato invernale e tutto ciò che abbiamo ottenuto nel 2025 alla fine 169 milioni totali guadagnati dal mercato in uscita due cessioni sono andate a concretizzare la prima quella di Okafor già bocciato in estate volevamo già cedere una sessione estiva almeno non ce l'abbiamo fatta venduto poi l'Aston Villa per 7 milioni a gennaio sempre in Inghilterra 60 milioni guadagnati torna in Inghilterra non a Londra ma a Manchester Ficcaio Tomori venduto al Maggi United per ben 60 milioni di euro la situazione finanziaria della società rossonera è comunque messa davvero molto bene sono di più gli incassi rispetto alle spese e gli ottimi risultati in campionato Coppa Italia Champions League hanno premiato Van Bommel con l'aggiunta di nuovi fondi a disposizione tutto questo ha spinto Scocco ad essere un attimino più tranquillo nell'operazione in entrata a potenzialmente spendere gli stessi soldi guadagnati dalla cessione di Tomori e così è stato perché esattamente con 60 milioni il Milan si porta a casa sempre dal Portogallo con Salinasio calciatori con un margine di miglioramento calciatore che già ha una valutazione superiore a quanto speso e calciatore che già nell'immediato può essere utilissimo per la difesa rossonera chiudiamo poi con probabilmente la migliore operazione in assoluto di tutte le rebuild mai fatte aveva un debole Scocco ha detto senti facciamolo usciamo un po' dagli schemi portiamo al Milan la leggenda Franco Lepore e qui insomma dobbiamo per forza mostrare il debutto di Franco Lepore Milan-Lecce il Milan va in vantaggio con la rete di Vittor Giocheres al minuto 21 sul finale è entrato Lepore protagonista purtroppo in negativo proprio il calciatore che lo vedete riportato sulla destra in ritardo su Korifzen Rafia segna la rete il momentane 1-1 siamo al 91 ultima occasione ultima opportunità un calcio di gore del Milan alla battuta chiaramente Franco Lepore che segna al debutto contro il suo Lecce squadra che l'ha lanciata è stata la sua prima squadra e quindi insomma questo il racconto di Franco Lepore in questa rebuild si chiude tutto in quella che è stata praticamente una delle sue poche ed uniche partite giocate con la maglia del Milan il campionato non è finito si sono giocate solamente 36 giornate ne mancano due ma per il Milan è finito sì perché il Milan è già campione d'Italia 81 i punti guadagnati alla trentasesima giornata ben 10 in più sulla Fiorentina seconda con 71 sembra un po' un paradosso analizzando i dati di gol fatti e gol subiti perché pensando ripensando un po' le caratteristiche principali della tattica di Van Bommel ci aspettavamo molti più gol subiti e probabilmente molti più gol fatti e invece in questo campionato in queste 36 giornate giocate ci ritroviamo con 64 gol fatti pochi pensando che sono gli stessi ad esempio del Napoli che è finito quinto ma solamente 24 gol subiti ed effettivamente un Milan che è proprio la miglior difesa del campionato non si tratta dell'unico successo perché a differenza di Ancelotti il Milan vince la Supercoppa italiana fortunata perché grazie ai calci di rigore riesce a superare la Juventus in finale e a battere il Bologna 2-1 in semifinale anche in Coppa Italia un po' agevolati dal sorteggio Venezia Sassuolo Napoli in semifinale e poi la rivale presunta di questa stagione per il Milan seconda in campionato finista di Coppa Italia la Fiorentina partita però dal racconto molto 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 particolare perché come potete notare TS quei 5 gol tutti fatti ai tempi supplementari partita bloccata letteralmente sull'1-1 per 90 minuti primo a Maffeo risponde poi con E 5 minuti dopo poi però dal 91esimo in poi il Milan non si è più fermato si è fermato invece la Fiorentina il Milan vince anche la Coppa Italia insieme alla Supercoppa insieme al campionato sono già 3 trofei per Mark Van Bommel in Champions League ci siamo lasciati con un Milan quasi perfetto nella fase minicampionato alla fine tutte vittorie tranne un pareggio agli ottavi di finale i rossoneri vincono 2-1 contro il Borussia Dortmund fondamentale decisiva la rete di Raffa Silva al 95esimo e a ritorno il Milan non ha grossi problemi a chiudere la pratica ottave di finale perché vince addirittura per 3 reti a 0 sinceramente non ho mai vissuto una partita di Champions così soprattutto contro una grande squadra una grandissima come il Liverpool il Milan fa letteralmente quello che vuole soprattutto nei primi 45 minuti di gioco al minuto 36 già Milan avanti di 2 reti a 0 3 minuti più tardi il Milan addirittura riesce a trovare la rete del 3-0 perché Teo Hernandez mette dentro Pellehau che al volo riesce a colpire a superare Allison e a segnare la rete del momentaneo 3-0 perché come ho detto nel primo tempo il Milan ne fa addirittura 4 ancora una volta con Rafa Leao protagonista siamo nel secondo tempo perdo anche la voce per questo Milan perché mi ha fatto perdere la voce commentando questo quarto di finale in live con voi gloria anche per Terracciano rientra col destro ha pedo invertito come terzino fluidificante sulla fascia sinistra sono addirittura 5 i gol del Milan ma come vedete le azioni continuano e questo significa che ancora bisogna vedere dei gol l'ultimo alla fine al minuto 65 lo segna Giocares anche lui si toglie la soddisfazione del gol il Milan stravince 6-0 contro il Liverpool a ritorno qualche piccola modifica un pochino di turnover ne usciamo imbattuti comunque ad Anfield il totale 2-2 e il totale tra andate e ritorno 8-2 per il Milan in semifinale in Champions e beh proprio contro il Real di Carl Ancelotti quel 4-4-2 rombo quel 4-4-2 che faccio veramente molta fatica a gestire insomma un Milan irriconoscibile nel primo tempo cioè un Milan che veniva da 6 gol 4 tutti tenuti nei primi 45 minuti contro il Liverpool a un Milan inesistente nei primi 45 minuti contro il Real Madrid qui anche sfortunati sulla conclusione di Vinicius deviata non lo da fare per Mignan nella ripresa costretti comunque a cambiare modulo ad effettuare modifiche particolari e anche insomma graziate a questa uscita orribile da parte del portiere del Madrid ne approfitta Guirassi che in qualche modo tiene vivo il Milan in vista del ritorno un Real molto cinico in realtà se dobbiamo dirla tutta perché nei momenti partiti in generale abbiamo visto più Milan molto più Milan nella ripresa anche dovuto appunto alle modifiche però Real molto più bravo a sfruttare le incertezze della nostra difesa a ritorno però la pratica è stata chiusa praticamente già nel primo tempo il gol di Mendy ha spento gli entusiasmi le speranze per il Milan e Sebaglius all'ottontasesimo la chiusa Real Madrid quindi in finale di Champions un Milan che non ha avuto un vero e proprio solo ed unico capo cannoniere anche perché abbiamo spesso alternato Ghiokeres a Guirassi entrambi però in doppia cifra Guirassi addirittura sfiori venti un Guirassi che come vediamo anche dalle presenze ottenute dalla panchina inizialmente era proprio la riserva di Ghiokeres per poi renderci conto che a livello di continuità di costanze e tutto e proprio anche di numeri ha portato molti più gol è stato molto più determinante rispetto a Ghiokeres appunto poi da sostituirlo quasi completamente 18 i gol di Ghiokeres 15 quelli di Ghiokeres 17 con 13 assist i numeri che racchiudono questa fantastica davvero straordinaria stagione per Rafa Leao stagione assolutamente direi positiva 3 trofei su 4 secondo me è andata davvero molto bene peccato per la delusione europea peccato per la delusione Champions c'è però da dire che sì potevamo sicuramente gestirla meglio tra andate e ritorno con il Real Madrid ma venivamo da un'illusione totale perché l'8 a 2 in totale contro il Liverpool ha secondo me dato troppe certezze troppa sicurezza a un Milan che forse in qualche modo ha sottovalutato un po' troppo il Real Madrid di Carlo Ancelotti ragazzi adesso tocca a voi fatemi sapere anzi fateci sapere a me e a Scocco 97 quale prossima ricostruzione quale prossima rebuild da vedere sia in live sul canale Viola e poi qui riassunto su Youtube scrivetelo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.